Tre volte più grandi un manuale di negoziazione dedicato alle donne, ma non solo. Non solo perché presenta una metodologia negoziale, sviluppati in tantissimi anni di consulenza e formazione all'interno di aziende nazionali e multinazionali, una metodologia che consente di preparare una negoziazione anche con pochissimo tempo a disposizione e di essere comunque decisamente efficaci, ma è specificatamente dedicato alle donne. Ad esempio gli studi di riferimento ci dicono che le donne negoziano molto meno di quello che potrebbero. Perché? Perché forse sono estremamente efficaci a gestire gli interessi dell'azienda, della famiglia o degli amici, ma quando si tratta di difendere i propri interessi lo sono molto meno. Inoltre le donne devono confrontarsi su un terreno diverso rispetto a quello maschile, quello degli unconscious bias, dei pregiudizi e degli stereotipi nascosti all'interno della nostra cultura. Quei pregiudizi e quegli stereotipi che fanno sì che per una donna sia veramente più complesso porsi come interlocutore autorevole di fronte ad un contesto magari aziendale. Inoltre, ahimè, per le donne è molto più complesso gestire adeguatamente lo strumento della negoziazione per una ragione molto semplice, perché il rischio di evitare comportamenti maschili che vedono essere efficaci è enorme, ma quando una donna negozia con un uomo non ottiene gli stessi risultati.